È stato una delle figure più autorevoli dal punto di vista religioso e politico nel Feltrino nel corso del XX secolo. Don Giulio Gaio dimostrò grande determinazione di fronte alle tragedie delle due guerre mondiali e dedicò la sua intera vita all'assistenza dei meno fortunati, reggendo per 60 anni il santuario dei Santi Vittore e Corona. La sua memoria è ancora viva, specialmente per coloro che lo ricordano al volante della storica Balilla Spider color carta da zucchero, vettura che condusse fino alla veneranda età di 99 anni. Sarà proprio questo il tema principale della cerimonia che ogni anno viene dedicata all'illustre personaggio. Sabato 6 gennaio, infatti, al santuario dei Santi Vittore e Corona verrà esposta eccezionalmente la storica Balilla, diventata nel corso del tempo il segno distintivo dell'amato parroco. Alle 15 la Santa Messa e a seguire la proiezione di un documentario che ricorda la storia di Don Giulio e della sua automobile, che verrà benedetta al termine della manifestazione. Don Giulio per 60 anni assunse il titolo di arciprete del santuario dei Santi Vittore e Corona di Feltre, diventando una figura di grande carisma, come ricorda Don Giacomo Mazzorana. La crescente popolarità era dovuta al suo spirito interiore, di una serenità. Chiunque lo incontrava tornava più sereno, perché anche in mezzo alle difficoltà personali o di vario tipo che ciascuno può avere, incontrare lui, che aveva appunto vissuto tante vicende, ma sempre affrontandole col spirito forte e sereno, dava proprio un momento di popolarità, ma soprattutto di serenità.